quanto c'è di qui all'adda gli disse renzo mezzo tra i denti con un fare addormentato che gli abbiamo visto qualche altra volta all'adda per passare disse l'oste cioè sì all'adda volete passare dal ponte di cassano o sulla chiatta di canonica dove si sia domando così per curiosità e volevo dire perché quelli sono i luoghi dove passano i galantuomini la gente che può dar conto di sé va bene e quanto c'è fate conto che tanto a un luogo come all'altro poco più poco meno ci sarà sei miglia sei miglia non credevo tanto disse renzo questo è preso dal capitolo sedicesimo dei promessi sposi il parco adda nord comprende i territori riveraschi dell'adda lungo il tratto a valle del lago di como nel quale sono inclusi anche i laghi di garlate e di olginate l'area naturalisticamente più interessante è costituita dall'ampia zona umida della palude di brivio dal punto di vista geologico la superficie protetta è il frutto dell'erosione provocata dalle acque al termine delle glaciazioni particolarmente rilevanti gli aspetti archeologici e monumentali con le opere di ingegneria idraulica come le chiuse di leonardo attrezzo sull'adda il ponte di paderno e il villaggio operaio di crespi d'adda sugli argini di un fiume nascono solitamente strade ponti porti commerci e luoghi di ritrovo che favoriscono l'incontro tra uomini stimolando lo scambio di idee ed esperienze e così può scoccare incredibilmente dall'acqua quella scintilla che mette in moto l'ingegno la creatività e la crescita culturale di un popolo ebbene tutto questo è accaduto anche sull'adda da sempre punto di riferimento di ingegni illustri scienza e arte si sono incontrate sul fiume trasformandosi in energia creativa leonardo ma non solo a decantare l'adda sono stati più illustri poeti della letteratura italiana alessandro manzoni l'ha reso celebre ambientando sulle sue sponde gran parte dei promessi sposi ci ha regalato pagine celebri come l'addio ai monti sorgenti dalle acque ma anche una poesia intitolata adda un idillio allegorico che nel 1803 volle mandare al suo maestro vincenzo monti invitandolo a trascorrere qualche giorno sulle rive del fiume un altro poeta incantato dalla magia della magia del fiume fu giosue carducci che nel 1877 compose sull'adda versi che hanno reso eterno un pomeriggio in barca con la donna amata nel 1947 infine salvatore quasimodo che in italia in un'italia nella quale era ancora vivo il ricordo della guerra il poeta sentiva arrivare il momento di esprimere il proprio rifiuto della violenza e con questo stato d'animo scrisse presso l'adda poesia che riconosce nella natura l'emblema della lotta dell'umano contro il disumano infine la pittura vedute straordinarie dell'adda si ritrovano in diversi e preziosi quadri dei celebri gaspare van vitelli e bernardo bellotto nonché sulle tele di numerosi artisti dell'ottocento italiano alessandro manzoni nacque a milano il 7 marzo 1785 da giulia beccaria figlia del celebre illuminista cesare e dal conte pietro manzoni modesto gentiluomo lombardo molto più anziano della moglie ma il matrimonio non era molto felice e i due coniugi si separarono nel 1868 divenne presidente di una commissione parlamentare voluta dal ministro dell'istruzione broglio sul problema della lingua nell'italia unificata e produsse una relazione intitolata dell'unità della lingua e dei mezzi di diffonderla in cui sosteneva la necessità che la lingua nazionale fosse fiorentino e auspicava che il sistema scolastico ne promuovesse l'uso e la conoscenza morì il 22 maggio del 1873 a milano per i postumi di una brutta caduta riportata all'uscita da una chiesa in sua memoria giuseppe verdi compose una messa da requiem che è rimasta giustamente celebre ok